Sì, va bene, 25.825 V-Bucks sono tantissimi, ma perché non fare una challenge dove rischio di doverne shoppare altri? E oggi siamo qui per giocare nuovamente in singolo nella modalità di Mita, quindi la The Flories Lava, e ogni volta che tocco la lava dovrò shoppare mille V-Bucks. Questa era una tipologia di serie che portavo tantissimo diversi anni fa, dove ad esempio dovevo shoppare ogni volta che mittavano, shoppavo ogni build, cose di questo tipo. Fatemi sapere se vorreste un ritorno di una serie del genere. Quindi lasciate un bel mi piace, fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Prima di continuare col video, però ovviamente come al soldo vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato alle cose oggetti di Fortnite, mi raccomando ragazzule, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie proprio di cuore a chi lo farà, è fondamentale per supportarmi. Detto questo, ragazzi, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare e speriamo di non toccare la lava. Ma soprattutto perché no? Perché non farlo? Perché non complicarmi la vita? Allora, da quello che ho notato, cupo cancello e dintorni con il laghetto, è uno dei punti che è maggiormente colpito dalla lava subito all'inizio praticamente. Quindi perché non complicarci ulteriormente la vita, ragazzi? Andiamo a cupo cancello e vediamo un pochettino che cosa riusciamo a combinare. Comunque, ragazzi, quando vi chiedo di iscrivervi al canale, lo faccio seriamente, perché tantissimi di voi guardano i miei video ma non sono iscritti. Quindi mi raccomando, ragazzi, controate di essere iscritti. Se non lo siete, fatevelo. Ricordo che qua c'ho una marea di canali su YouTube, quindi magari potreste pensare di essere iscritti, ma magari non lo siete sul canale giusto. Allora, buon in attimo. Oh, pensavo di trovare subito qualcuno qui. Madonna, qui quante ce ne sono, buonissimo. Ma dove sta la gente? Cioè io sento tipo 70.000 player, ma poi non c'è nessuno. Cioè non... Che cosa sta succedendo qui? Ma i pump esistono? Bro, bro, una calmata. Bro, please, una calmata. Non sto capendo la tua rabbia repressa. Oh, madonna santa, signori. Come mi ha pushato questo con le catene. È una cattiveria disumana. Ah, io ho visto che c'è gente che fa cose strane con la catena, con i palloncini. No, no, ormai rebutta. Ormai rebutta, ragazzi. Ormai ha rebuttato, quindi tanti cari saluti. È un team che è tornato praticamente in auge, ma a noi va bene così. Ma un pump? Un così, eh? Chiedo per un amico. Allora, la lava sta arrivando, signori. Quindi sta per cominciare la mia challenge, sostanzialmente. Perché fino adesso è stata una pacchia, perché ovviamente non c'è stato nulla. Tra l'altro, ragazzi, io non ho avuto il tempo di lootare materiali, non ho avuto il tempo di fare nulla, e ho solo una kill, vorrei far notare. Non ho neanche shield, non ho un pump, non ho un cecchino, non ho nulla. Vorrei capire che cosa ho fatto in questi minuti di partita. Sono veramente molto curioso di capire che cosa ho fatto in questi minuti di partita. No, ragazzi, cioè, sul serio, che cosa è successo? Cioè... Tutto il team? Tutto quel team? Porca miseria, ragazzi. Madonna mia, ma stai scherzando? Ma perché tutta sta... 1000 V-Bucks, 2000 V-Bucks, 3000 V-Bucks. Eh, ma tanto... Cioè, non è che ho lootato... Non è che io abbia lootato chissà quanti materiali. Il bro si è fissato con me, Eh, purtroppo... Quando sei un bel ragazzo... La gente tende a fissarsi un po' troppo facilmente con te. Cioè, lui, ragazzi, sta sprecando qualsiasi cosa nell'arsenale per pusharmi. Comunque, spero di non perdere il conto durante il video, perché voi magari a schermo starete vedendo qualcosa di carino, ma io sto con la mia testa e basta. Quindi, per ora, siamo a 3000 V-Bucks, se non erro. Però, raga, dobbiamo stare molto attenti, eh, perché qua la situazione è decisamente pericolosa. Io non ho lootato materiali. Ripeto, praticamente, io non ho fatto nulla in questa partita. Continuo a non capire il motivo. Cioè, non lo so, la partita più strana del mondo, con uno start molto particolare. 5000 V-Bucks, così, debotto. 5000 V-Bucks. E godo! E godo! E godo, signori! Eh, vabbè, ho perso tutto, non l'ho potuto lootare, ma va bene. Era lui, eh? Era di nuovo lui, ragazzi. Era di nuovo lui, comunque. Era di nuovo lui. Mamma mia, se godo, raga. Il loser va usato con parsimonia, il loser non va... non va spammato, però quando ce vò, ce vò, eh. Ora, io, ragazzi, farei una cosa, detto proprio molto sinceramente. Eh, io qua ritoccherò la lava. Va bene, stiamo a 6000. 7000. Stiamo un attimino esagerando qui, però, ragazzi. Però, raga, devo venire qui a lootare un po' di materiali. Eh, ho preferito perdere un po' di vita, ma venire qui a lootare un po' di materiali, perché se no, eravamo veramente messi male. Comunque, raga, cioè, cure introvabili... Cure davvero introvabili. Ok. No, no, quello lo devo lootare, raga. Eh, non ce la farò mai. Eh, lo sta... Mangiando già la lava. Eh, no, no, raga, c'ho troppa poca vita. Se avessi avuto più vita, lo avrei fatto assolutamente, ma ne ho troppa poca. Ok, lui si è riftato quello che stava qui. Sì, mi sa proprio lui, ragazzi. Mi sa che si è riftato proprio lui, signori. Io, raga, sto finendo i materiali. Mi ha dato, ovviamente, la kill, però non posso veramente più lootare i materiali. Diventa adesso per me impossibile lootare gli avversari e quindi... Ok, 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 aspettate però, perché... Ok. 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 Eh, no, raga, questi sono un team intero, eh. Questi erano un team intero. Ho ritoccato la lava, quindi sono ad 8000 V-Bucks. Alla grande. Questa volta, però, cambio qualcosina, perché abbiamo visto che effettivamente a cupo cancello diventa troppo veloce la situazione, soprattutto allo start. Io l'altra volta non mi ricordo dove sono atterrato. Vicino al Monte Olimpo, sicuramente. Però... Ah! Sapete che mi sa che sono atterrato qui quando ho vinto la partita, perché poi da lì sono salito sulle montagne e ho iniziato a lootare lì. Ci riproviamo, ragazzi. Riproviamo un attimo. Anche perché mi sembra che in quella partita abbia toccato la lava veramente pochissime volte. Eh, perché ormai l'obiettivo è quello. Cioè, nel senso, 8000 V-Bucks ce sono arrivato. Non me ne fate shoppare altri, per favore. Quindi questa ce la facciamo un po' più seria senza andarci a chissà creare quale problema. No, no, no. No, no, no. Però aspettate, perché io sono atterrato malissimo, eh. Fermi tutti. Sono atterrato malissimo. E qui c'è qualcuno con i deltaplani pronto. Uh, il cecco. Ah, ma vabbè, raga. Facevo sta cecchinata. Potevo anche prendere e andarmene, eh. Raga, sto... Sto tipo laggando a schifo. C'ho la X rossa, il ping oltre al 100, ma adesso è tornato a 15 in mezzo secondo. Si è aperto il mini bunker. Io, ragazzi, faccio veramente schifo con il loot che mi ritrovo. Detto proprio molto sinceramente. Non ho veramente finito di lootare qui, eh. Però mi sa che adesso mi muovo subito sul bunker. Il problema è che ho gli shield, ragazzi. Sì, sto tornando a laggare, eh. La vedo male, start here. Perché se si lagga in The Florislava è un problema. Lasciatemelo dire. Lasciatemi dire che laggare in The Florislava potrebbe essere un problema. E l'altro grosso problema è che io sono pieno di colpi piccoli, ma non ho i colpi che mi interessano. Quindi cecco, pump e assalto. Hanno anche rebuttato proprio qui vicino vicino. Quindi non buona come cosa. No, raga. C'è qualcuno che sta arrivando verso il bunker. Mi ha segnato dei... No. Il segnato del build è qua sotto. Cosa sta facendo questo, raga? Ok. Bro, va bene. Non lo so, ma mi segnava i passi, ma in realtà stava fermo, poverino. Ma secondo me sapete che stava laggando anche lui? Sapete che secondo me... Ma come le ho messe le armi? Ok. No, non mi direi che vuole rebuttare. Vabbè, nel dubbio gli ho dato un colpo, raga. Ma io ho il silenziatore nel cecchino e lo devo assolutamente togliere. Io non lo so. Quando ho il cecchino col silenziatore non hitto mai. Raga, io ogni tanto ripeterò quanti V-Bucks sono per non perdere il conto mentalmente. Dovrei essere ancora ad 8.000 V-Bucks da dover shoppare. Poi tanto non vi preoccupate che se ho shoppato qualche V-Bucks in meno recupero tutto, cioè proprio su quello state sereni. Allora, raga, forse riesco a fullarmi quei materiali e potrebbe essere particolarmente importante. E mi sono appena reso conto che avevo il microfono troppo forte, ragazzi. Molto male. Adesso dovrebbe tornare tutto alla normalità. Spero si sia sentito bene fino ad ora. Tra l'altro, ragazzi, sono stato molto fortunato anche con la safe, eh. Cioè siamo praticamente sempre rimasti in safe. Comunque il loot ce l'ho, il movement ce l'ho, le cure ce l'ho anche se avrei preferito i medikit. Io direi di iniziare a prendere l'AIG anche se ho paura che qualcuno tra queste montagne ci sia, eh. Va bene, ragazzi, è che il Monte Olimpo è proprio al centro della safe quindi sta partita mi sembra bella complicata. Eh, perché tutti si andranno a contendere il mega statuone gigantesco. Oddio, qualcuno sta già in skybase. Mmm, ok. In dubbio. Vabbè, poi faccio schifo. Quindi, eh, tanti cari saluti. Qualcuno anche con le ali. Ma non era più facile dare a gente sulle ali? Ok, sì, infatti. Eh, allora io volevo puntare ad andare su... sulla mega statua. Però effettivamente... effettivamente no, ragazzi. Dai. Perché? Possiamo anche rimanere qui. Godo tantissimo. Godo veramente tanto. Si è chiuso là sotto. Ok. Non so quanto mi convenga continuare a perdere tempo con loro, però... Oh, c'è un altro dietro. Mmm. Ok. Ah, le hanno pushati da dietro, raga. Le hanno pushati da dietro. Quindi un altro team ancora. Di conseguenza, me ne vado. Perché mi sa che erano anche proprio più di uno. Ok, raga. C'è gente con le ali. O quando vedo qualcuno che sta con le ali... Provo sempre a sparare, ma... Ovviamente non è che mi entrino sempre le hit. Giustamente. Eh, vedete, vedete, vedete. Che c'è qualcuno che si è piazzato... Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Sto maledetto, raga. Che non vedeva l'ora. C'è un altro... C'è il... No, che so. Che è il compagnuccio suo. Oh, mio Dio. No, raga. Mi devo levare da qua. Mi devo proprio levare da qui. Eh, in realtà alla fine sono stato fortunato con la safe. Però mi sta rinchiudendo in mezzo a 70 team. Uno peggio dell'altro. Ah, io faccio una cosa, ragazzi. Col potere delle impulsi me ne vado. Col potere delle impulsi me ne vado. E tanto... C'ho tanti materiali, quindi posso permettermelo. Inizio a buildare da di qua. Eh, però, raga, dobbiamo stare attenti, eh. Perché quelli iniziano a fare i maledetti dalla sopra. Quelli dalla sopra iniziano a fare davvero i maledetti. Iniziano a fare... Oh! Mi aveva segnato e mi faceva la pedana. Non me la stava a fare. Vabbè. Ok, raga. Ah, proprio così quelli? Ma perché non li ho... Perché non li ho fatti cadere da più in basso? Cioè... Come mai questa cosa? Non lo so. Va bene. Ok. Questa cosa ci sta. Però, raga, io non ho più... Non ho più colpi assalto. Non ho più colpi assalto per far cadere qualcuno. O per far... Peritare comunque in generale. Rompere le scatole. Non lo so. Cioè... Sono messo veramente malissimo, ragazzi. Sono messo... Molto, molto male. Allora, qui sto facendo una marea di kill. Però mi servono colpi. Assolutamente. Eh, raga, mi prendo la mitraglietta. Mi prendo la mitraglietta almeno ho un po' più di colpi. Sperando che sia... Modificata bene. Eh, se no... M'arrangio. Ok, raga, quello che sta fa? Che cosa sta facendo quello? Perché sta riscendendo così? Stava tanto bene lì sopra. Lui sta scendendo. Ah, vabbè. Eh, raga. Quelli là... Saranno tosti, eh. Quelli lì saranno veramente tosti da gestire. Perché se no c'è anche qualcuno ancora più su. Cioè, si sono tipo piazzati a strati. Come se qualcuno stesse un po' più giù. Qualcuno un po' più su. Siamo quattro team in sei. No. Ok. Eh, devo stare attento, raga. Devo stare molto attento. Anche perché non so quanto ne valga la pena provare a laserare in questo modo. Ma che fortuna quello che si è ritrovato in safe laggiù. Quello con quelle build lì sta in safe, secondo me, raga. Quello, raga, sta in safe, secondo me. Eh... Questo è un bel disastro, raga, eh. Allora, non mi prendo troppa altezza, ragazzi. Ma mi devo... Un attimino... Fa da parte. Mette un po' sulla lava, perché... Sennò diventa un disastro muoversi dopo. Attenzione. A me, ovviamente, più la gente kill è meglio, eh. No, raga. Quello era tutto scoperto fermo. Eh, eh. 9000 V-Bucks. 9000 V-Bucks. Oh! Si gode! Vedete perché volevo il medikit? E quei due? No, raga. Eh. Quelli c'hanno tutti le ali, eh. Il bro non se n'è accorto e l'avversario se n'è andato con le ali. Il bro non se n'è accorto. Ok, non mi dire. Sono due contro uno. E non li posso far praticamente cadere. Sì, in realtà con la mitraglietta ce la posso anche fare. Provera, raga, è che... Oddio! L'ha preso! L'ha preso sul serio! Mamma mia, si gode tantissimo. Eh. E mo? Eh, sto io in safe, però, bello mio. Sto io in safe, bello mio. C'è sto io per una volta con un pizzico di fortuna. Ah, bro, guarda. Mi puoi anche far cadere, in realtà. Ma non è entrata la hit. Ah, perché il bro poi si copre. Spara ma si copre. Niente. No! Ma no, ragazzi! Ma manca a far così! Raga, io ve l'ho detto che sta stagione è rotta. Io non ce la faccio più. C'è... Sto crashando una registrazione, sì. L'altra pure. È davvero incredibile. Questa volta sicuramente sono crashato perché stavo rimbalzando nella lava mentre buildavo. E boh, il gioco con i server non avrà saputo resistere. Non ne ho più palle idea. Tra l'altro, ragazzi, mi si era frizzato ed era per culo e poi sono rimasto nella lava. Ma dato che sono un signore, nonostante sia stato per colpa di un bug, mi vado a shoppare i 13.500 V-Bucks. Ripeto, solo perché sono un signore. E quindi, ragazzi, direi che siamo arrivati quasi a 40.000 V-Bucks. La nostra shoppata l'abbiamo fatta. La nostra rosicata l'abbiamo fatta. Perché, ragazzi, dopo aver killato quello lì in volo, mi meritavo. Mi meritavo di vincere sta partita. Ma poi per una volta che mi dice bene con la tempesta che è quello che deve venire da me, io lì pronto col cecchino, la mitra, proprio a spammare tutto quello che c'avevo. Devo crashare. Io veramente, ragazzi... Ma magari quello penserà pure di aver vinto perché io sono morto dalla lava. Perché lui mi ha fatto cadere e sono morto dalla lava. Ma non sono morto per quello. Sono morto perché sono crashato. Quello ci avrà pure capito, no? La contentezza di avermi killato. Vabbè, ragazzi. Vi ricordo, ovviamente, il codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato alle cose oggetti di Fortnite. Fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Mi raccomando, contrate di essere iscritti se non siete, iscrivetevi. Lasciate un bel mi piace. Per me è tutto. Ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Sperando di non crashare. Ciao, ragazzuoli! Ciao, ragazzuoli!